E bello a tutti ragazzi, sono Gio e bentornati, sono video di Pokémon GO! Bomberoni, ci eravamo lasciati nel video precedente con l'annuncio di Mega Raikwaza. Avete già controllato nel vostro box i vostri Raikwaza che possedete? Selezionateli, potenziateli, perché a brevissimo, raga, sarà rilasciata la sua mega evoluzione. Dobbiamo andare a fare le sue mega energie e poi potremo andare a registrare la sua mega evoluzione. Non vedo l'ora, ragazzuoli. E anche oggi, Bomberoni, andremo a vedere assieme delle notizie veramente top, ma prima, eccoci qua in game. Allora, Bomberoni, attenzione, invita un ride. Max, non so, raga, no, dai, ce l'ho già shiny, ce l'ho già shiny. Sinceramente, adesso sto cercando un attimo di limitarmi, di tenere un attimo, raga, questi pass da remoto. Chiaramente quelli in presenza ne ho, ve li mostro anche a voi. Andiamo a fare un attimo il conteggio, raga, perché neanche io so esattamente quanti sono. Allora, vedete, uno da remoto e 15 premium. Più chiaramente quello gratuito, quello arancione per intenderci. Come sappiamo, raga, cos'è un mesetto fa, se non addirittura di più, Niantic ha nerfato, modificato questi biglietti da remoto, che ha aumentato il prezzo. Addirittura ha messo il limite di 5 giornalieri e io, infatti, raga, è da lì che sto cercando un attimino di modificare la mia esperienza di gioco. Cioè, ho trovato lo shiny di Niki Lego, quindi a posto, a posto. Invece, mesi, anni fa, raga, andavo a farne veramente tantissimi, anche se trovavo lo shiny. Continuavo, ma era nettamente differente il game. Attenzione, raga, Clowncher! Clowncher! No, lo shiny, poteva uscirmi lo shiny. Se lo vado a trovare adesso che non è il suo evento, che ormai è finito. Ma, raga, volevo mostrarvi, non so se avete notato, attenzione, guardate qua, sotto oggi, se andate tutto in basso, sotto le news. Ma come mai? Pokémon iscritti ai concorsi, iscrivi i tuoi Pokémon ai concorsi, ai Pokestop. Praticamente, raga, questa scritta qua, possiamo dire che è simile, è identica a quella delle palestre, perché sopra qua, voi attualmente ho Axorus, vedete qua, nelle palestre, quindi Pokémon in palestra mi marca lui. In alternativa, se non ho Pokémon in palestra, mi marca la scritta anche. Metti Pokémon in palestra per ottenere le Pokémon, vedete qua sopra, raga. Praticamente identica questa cosa qua. Allora, stiamo, raga, per arrivare finalmente a questi concorsi. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, quindi a brevissimo, raga, a giorni dovrebbe sbloccarsi questa nuova news. L'abbiamo vista in un video precedente, avete salvato, raga, i vostri Pokémon. Metteteli tutti sotto l'etichetta e prepariamoci al nuovo concorso. Ma attenzione, raga, ma cosa è? Cosa è? Quattro Cloucher? Gli ho già ceccati, nessuno è shiny, porca di quella miseriaccia. Ma è nido, raga, è nido. Quasi, quasi, nei prossimi giorni verrò qui, raga, assolutamente, perché avete visto l'evento precedente. Che purtroppo non ho trovato Cloucher shiny, con quell'arancione lì, fantastico. Quindi non sia mai, raga, verrò qua anche col mio account secondario a caccia di Cloucher e Fumantis shiny. Ma andiamo sotto le missioni, missioni, guardate qua, raga. Allora, ricerca a tempo diamante grezzo che ci dà come ricompensa qui, raga, un Pokémon, ma cos'era, misterioso, mi pare, Carbink. Non so se rientra sotto i Pokémon misteriosi o cosa, raga. Lo vedremo, poi quando andremo a catturarlo e leggeremo anche la sua descrizione del Pokédex. Ma qua mi manca solamente di potenziare dieci Pokémon, raga, di tipo roccia e tipo folletto. Veramente pochini. Solamente questa missione qua, che poi, cioè, potremo già andare a completarci il tutto, raga. Cinque missioncini è veramente molto easy, ma teniamola qua, raga. Non andremo a raccimolare il tutto oggi, ma penso magari, sopra polvere di stella ce ne dà, 500. Magari adesso andremo a prendere questa qua delle sfide di collezioni di giorno e notte, ma attenzione, raga. Ecco qua, finalmente, finalmente, guardate qua quanti, quanti ne abbiamo, quanti ne abbiamo. Abbiamo già il radar attivo, sì, il radar rocket attivo e componenti misteriosi ne abbiamo due, raga. Ok, andiamo quindi a prenderne tre, ma queste missioni qua sono fantastiche. Un componente misterioso, timbro, anche timbretto giornaliero. Due, molto bene, e tre, spero di trovarne altre, raga, di queste missioni qua, che sono veramente il top. Perché, come vi ho detto, questo qui è l'unico modo all'interno del game per farmare più di un radar rocket. Infatti, vedete qua, che ho appunto quello attivo, raga, questo qua attivo, e sto farmando altri componenti. Possiamo andare a farci altri dieci radar rocket e uno l'abbiamo già li attivo. Raga, ma io non so qua, questi pacchi non ho mai capito, cioè, cambiano ogni due ore, sembra. Cioè, ogni ora, ancora un po', pacco veterano, 999 poche monete, cioè, 15 biglietti raid premium, un modulo ESC. Io non lo so, raga, non lo so, il pacchetto schiusa, volevo vedere se c'era, ma non c'è quello dei biglietti raid da remoto, che a volte lo mettono, raga, a volte non c'è, pacco esploratore, ma guardate che prezzi. Palestra, appena tirata giù, facciamo un po' di monetine, raga, e poi piazziamo, piazziamo, diventiamo capi palestra. Andiamo a miettere, allora, facciamo filtro cromatici. Io metto sempre, se riesco, raga, ma non riesco a parlare oggi. Un bel Pokémon, quindi andiamo a vedere, un po' in basso, un po' in basso, mettiamo. Hitmoly Shiny, questo Hitmoly Dai dà 2100 punti lotta, eccolo qua, sta anche uscendo un Nihilego, vedo l'ultravarco qui. Tac, tac, possiamo prendere il Pokestop della palestra molto bene, ecco qui. Raga, ho trovato, guardate qua, una missione super, e tra poco, a breve, vi dico anche il perché. Potenzia dei Pokémon 10 volte e ci dà 25 mega energie a Undoom. Bene, raga, guardate qua, un XXL del gattone, il gattone Poroline, molto bene, sapete che sono un super amante dei gatti, cioè degli animali e soprattutto dei gatti, raga. Mettiamolo subito, subito, etichette, che caldo, raga, che caldo. Speriamo che a Londra, chiaramente che non piova, non chiamiamolo, però che non ci sia questo caldo perché se no, porca miseria, come l'anno scorso a Siviglia 40 gradi, raga. Ok, XXL, eccolo qua, è uno dei miei pochi, non ne ho tantissimi XXL, la maggior parte che ho, raga, sono XL. Bomberoni, dovremo avere disponibile due codici promozionali, andiamo a inserirli subito. Allora, mettiamoci qua un po' tranquilli, l'ho già copiato uno, raga, quindi andiamo sotto negozio, chi ha Android, attenzione, chi ha Android può fare questo procedimento, come sto facendo io dal mio Galaxy. In alternativa, chi ha iPhone deve andare sul sito ufficiale di Niantic, di Pokémon GO, sinceramente non so neanche come si fa, raga. Però andate che c'è il link, insomma. Andiamo in basso, in basso, in basso, spero che si senta che... Ah, qua c'è una rietta, raga, si sta benissimo. Allora, eccolo qua, per inserire i codici, copiato, eccolo qua, tac, riscatta, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', tac, riscatta. Sei pozioni. Ma allora, bomberone, andiamo a vedere l'ultima news rilasciata da parte di Niantic, guardate qua, che immagine, raga, il gemmone, questo qua non è il gemmino, è il gemmone. Tuffateli nell'oscurità o lasciate che le fiamme divampino nel nuovo evento, fiamme di tenebra. Ma che figo, raga, bellissimo, bellissimo. Ormai non poteva essere d'altro perché acqua lì, no, mettete fuoco perché stiamo andando verso l'estate dove devono proprio farci bruciare dentro. Allenatori, allenatrici, fiamme ruggenti, ok, un tunnel infinito di tenebre alla vostra destra. Quale sfiderete tra Pokémon di tipo fuoco o tipo buio? Perché sì, ragazzuoli, adesso vediamo se ce lo viene detto, però praticamente quando inizierà, quando starterà questo eventuccio qua, sarà da scegliere il nostro percorso. E potremo decidere se Pokémon, se inseguire Pokémon di tipo fuoco o Pokémon di tipo buio. E chiaramente se andremo a mettere a Roma quel che è, attirerà quei Pokémon che abbiamo selezionato. Scegliete il vostro destino durante il nuovo evento fiamme di tenebra di Pokémon Go. I Pokémon selvatici di tipo fuoco e di tipo buio appariranno più frequentemente nei raid. Inoltre, Turtonator, questo nuovo Pokémon, raga, Pokémon Tartabomba, eccolo qua, di tipo fuoco e di tipo drago, ha due tipi, molto bene. Farà il suo debutto in Pokémon Go. E con un po' di fortuna, raga, possiamo addirittura. Incontrarlo Shiny, raga, non succede spessissimo che debutta un nuovo Pokémon, inseriscono un nuovo Pokémon e addirittura possibile Shiny, raga. Cioè, ma che bellezza e che Pokémon, raga, da quello che ho visto questo qua. È proprio un bel Pokémon molto forte all'interno del game. Emerge dall'oscurità anche Mega Sableye. Eh sì, arriva, raga, arriva, ve l'avevo detto. Il Pokémon oscurità di tipo spettro e di tipo buio, che farà il suo debutto in Pokémon Go nei Mega Raid. Allenatore e allenatrici, allora, buona fortuna. Vediamo un po', raga, fiamme di tenebra. Che Pokémon, raga, eh! Dalle 10 di giovedì 29 giugno alle 20 di domenica 2 luglio. Ce lo portiamo avanti fino a luglio. Turtonator, molto bene, raga, eccolo qua, infatti, possibile Shiny. Che bellezza, che bellezza! Non mi sono ancora spoilerato, raga, la sua forma Shiny. Lo vedremo sempre che lo troviamo, speriamo chiaramente di sì. Vediamo anche il debutto di Mega Sableye, raga, eccolo qua. Vi ricordo che tutti i Mega Raid che troviamo in giro, raga, una volta sconfitto il Pokémon, sono possibili Shiny. Infatti, ecco perché qua ci marca Mega Sableye, possibile Shiny. Incontri in natura, vediamo un po' chi possiamo trovare. Wild, selvatici, tutti possibili Shiny, raga. No, a parte Stanchi, la Puzzola, Lit... No, Litwix, sì, perché c'era il suo Community Day. Litten, raga, la Puzzola e Litten non ci saranno possibili Shiny. Alcuni allenatori, allenatrici... Oddio, Ondum selvatico, che bellezza, raga. Possibili Shiny perché lui è Mega Raid. Abbiamo i Raid, Raid, raga, vediamo un po'. Livello 1 abbiamo, non mi interessano, sinceramente non mi interessano, raga. Snizzle, Darumaka, Screghi e Deino. Livello 3, Marowak di Alola, Flareon, Umbreon ed eccolo qua. Turtonator, Turtonator, raga, questo torto qua che sicuramente andremo a farlo. Però, come vi ho detto già prima, staremo a vedere, raga, perché da quando hanno aumentato questi biglietti, sicuramente li farò in presenza. Valuterò cosa fare con i biglietti Raid da remoto. Infine, il leggendario, Itran, arriva lui a farci visita. Possibile Shiny con gli occhi viola, è fantastico. Magma, clima, ma che mossa è? Attacco nuovo di Itran, raga. Guardate qua i danni che fa, nuovo attacco, appunto, come hai detto, fantastico. Mega Raid, appunto, Mega Sableye. Vediamo i bonus, ragazzuali, perché chiaramente non possono mancare i bonus dell'evento. 25% di punti esperienza aggiuntivi per i Raid completati. Le caramelle aggiuntive per i Raid completati. Gli allenatori e le allenatrici dal livello 31 in poi riceveranno un'ulteriore caramella L per i Raid completati. Le reclute del team Gorocket, che usano i Pokémon di tipo fuoco e di tipo buio, appariranno più spesso nei Pokestop e nelle Mongolfiere. Chiaramente, raga, andremo a caccia degli Shiny Ombra. Seconda della ricerca a tempo scelta, quella fuoco o buio che abbiamo visto prima, raga, riceverete uno dei seguenti bonus. Ok, quindi, ad esempio, questo qua, con la Roma è più probabile attirare i Pokémon, è quello che abbiamo detto prima, infatti. Che con la Roma è più probabile attirare i Pokémon di tipo fuoco, escluso la Roma avventuro giornaliero, chiaramente. Questo bonus, immagino, se scegliamo chiaramente i Pokémon di tipo fuoco. Invece, se andiamo a scegliere il percorso di tipo buio, con la Roma è più probabile di attirare i Pokémon di tipo buio, escluso appunto quello giornaliero. Ricerca a tempo ramificata. Ma cosa mettono? Che news, cacchiarola, il gioco veramente a bomba. Ricerca a tempo dedicata a fiamme di tenebra. Gli allenatori e le allenatrici potranno scegliere tra tragitti incentrati su Pokémon di tipo fuoco o di tipo buio. Completate le missioni di ricerca per ottenere un biglietto sfida premium. Bene, raga, ma avrei preferito magari uno da remoto. 15.000 di punti esperienza e incontrare i Pokémon dedicati all'evento. In base al tragitto scelto, a Roma attirerà Pokémon di tipo fuoco o di tipo buio. E arriviamo alle missioni, raga, missioni che possiamo ottenere girando i Pokestop nella nostra città. Ah, ma bene, lo vedo già qua. Turtonator, raga, il torto, eccolo qua, questa tartaruga infuocata, lo vedo già qui, quindi molto bene. Non lo troveremo solamente da ride, quindi non dobbiamo sempre utilizzare un biglietto ride, ma lo possiamo trovare anche selvatico. Totalmente gratis. E infatti qua possiamo trovare Meo di Alola, Grimer di Alola, Marowak di Alola, Magmar, Sneasel, Litwick e appunto la tartaruga di fuoco. Turtonator, eccolo qua, raga, che io cercherò solamente le sue missioni. E infine arriviamo alla sfida di collezione, una sfida di collezione fiamme di tenebra arriverà a breve. Il tipo di sfida di collezione che riceverete dipenderà dal tragitto della ricerca a tempo scelto. Ok, molto bene che è personale anche questa. Completate la sfida di collezione prima della fine dell'evento per ottenere 5.000 punti esperienza e 100 punti di Mega Energia di Ondum. Bene. E qui su Ondum, raga, mi riaggancio al discorso che vi ho fatto prima. Eccolo qui. Come mai proprio Mega Ondum? In questo evento qua, ragazzuoli, se avete la possibilità, andate a Mega Evolvere Mega Ondum, perché è di tipo buio e fuoco. Quindi questo evento qua è suo. Andate a fare veramente tante caramelle. Bomberoni, adesso tornerò al mio solito parchetto e andrò a caccia di Shiny Cloucher e Shiny Fomantis. Perché a quanto pare lì è diventato proprio un nido di Cloucher e chiaramente adesso spawna ancora Fomantis. Quindi prima che termina l'evento e che ricambino i nidi, sotto a chi tocca. E dunque, Bomberoni, cosa ne pensate voi delle news che abbiamo visto oggi? Turtonator vi piace come Pokémon e siete pronti a registrare la sua forma Shiny? E per oggi da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video, raga, vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!